ciao a tutti da parafranz e benvenuti a questo video oggi primo video sponsorizzato del mio canale sponsorizzato da chi vi starete chiedendo benissimo in questi giorni sono stato contattato da olight technology che è una società itech che produce torce e illuminazioni a led di altissima qualità dove nasce olight olight nasce nel distretto industriale di shenzhen in cina e fin dall'inizio si riconosce per prodotti di altissima qualità e da una robustezza incredibile infatti o technology progetta e realizza tutte le sue torce o in titanio o in alluminio aeronautico il t6061 tutti i suoi prodotti rispettano standard militari questo che andremo a vedere ipx8 quindi è possibile immergerlo fino a due metri di profondità tutti questi elementi hanno permesso all'idea di sbarcare nel mercato americano e nel 2008 addirittura sono riusciti ad essere importati anche qui in italia ecco quella torcia che avete visto all'apertura del video iniziamo descrivendo quello che vediamo all'interno ovvero un manuale di istruzioni un modello diavlog pro o light non vedere se troviamo anche la lingua italiana ecco qua innanzitutto la descrizione di tutti i componenti e come vedete sì c'è anche l'italiano ottimo veramente ottimo mettiamo da parte il nostro manuale andiamo a vedere la custodia viene fornito tutto il kit praticamente la custodia con il velcro e la fibbia da mettere nella cintura la possibilità di agganciarla attraverso il moschettone ecco qua veramente ben fatta veramente solida ecco qua la rimettiamo nella confezione abbiamo qua il caricatore magnetico perché ebbene sì questa torcia ha le batterie ricaricabili ea questo piccolissimo doc tra l'altro veramente ben fatto in alluminio non so se riesce ad apprezzare mcc 5 volt questa fantastica fascetta utilizza due batterie da 3500 mAh l'una sono le classiche anche quelle per le sigarette elettroniche le 18650 ecco qua mettiamo via anche il nostro caricatorino ed ecco qua il pezzo più interessante la nostra torcia torcia colore sabbia molto bello molto ben rifinito rifinito sulla corona frontale invece abbiamo un fantastico blu caricatore 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 e caricatore è un bel prodotto ecco il retro dove andrà poi fissato il nostro fantastico caricatore caricatore che è a led pensate che questa parte trasparente si illumina con lo stato della batteria passando appunto alle modalità e al bottone abbiamo quattro modalità differenti abbiamo una modalità più potente da circa 2.100 lumen e durata continua due ore poi abbiamo una seconda modalità 600 lumen 5 ore di durata continua 150 lumen durata 23 ore e 15 lumen alla fine durata ben 8 giorni particolare dell'impugnatura veramente veramente ben fatta il raggio di utilizzo di questa torcia è di circa 1800 metri quindi veramente veramente notevole usa un led cre x hp 35 e possiamo vedere qua all'interno veramente veramente un prodotto notevole e poi non per ultimo la confezione ragazzi stiamo parlando di una torcia che viene fornita di questa fantastica valigetta con il marchio o light purtroppo per enormi vigenti in questo momento contro il covid non mi è permesso uscire fare video all'aperto non mi è permesso andare purtroppo in montagna e quindi facciamo un breve test domestico in cantina come potete vedere è completamente buio scusate l'audio ma come ho detto prima iniziamo in cantina e scendiamo la nostra torcia ecco vi faccio notare che qui abbiamo anche il led che ci indica lo stato della batteria arancione metà carica rosso quasi scarica verde invece completamente carica questo qua è la modalità più scarsa e la modalità più forte come vedete anche la luminosità di quella più scarsa per spenderla e tenere per minuto eccoci tornati qua in cantinetta vi voglio dire appunto light mi ricorda che per questo periodo per il black friday tutti i suoi prodotti sono in sconto del 30 per cento quindi io non posso solo che consigliarveli veramente dopo averli provati sono dei prodotti veramente fatti con qualità maniacale e non scherzo tra l'altro molto importante certificati CE e ROS sono prodotti di altissima qualità anche per come vengono forniti abbiamo la custodia che andiamo a provare immediatamente ecco qua così da poterla mettere sullo zaino, sulla cintura e la ricarica USB magnetica abbiamo praticamente una qualità quasi da smartphone veramente un ottimo ottimo prodotto a chi si rivolge o light? o light di sicuro non si rivolge all'utente che va a fare magari un'escursione la domenica o magari solo per qualche breve periodo come me per esempio ma si rivolge ai professionisti per esempio a rifugisti alla sicurezza, la sicurezza privata perché no? è una torcia assolutamente affidabile a tutte quelle persone che fanno escursionismo di notte ricordo anche che o light fornisce anche un'ampia gamma per chi pratica il soft air o per chi vuole avere una torcia per la propria arma infatti troverete un ampissimo catalogo di torce di questo tipo adattabile al rail della vostra arma quindi se vi è piaciuta questa collaborazione con o light vi ricordo di lasciare un like e attivare la campanellina che a voi non costa nulla ma per noi è veramente tanto iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e su facebook vi lascio tutti i link qua sotto così potrete collegarvi direttamente allo store di o light e ottenere il vostro 30% di sconto sugli acquisti grazie e ci vediamo alla prossima piccola prova goliardica sul balcone abbiamo i palazzi là di fronte che sono circa 215 metri di distanza andiamo ad accendere la nostra torcia chiedo scusa per il disturbo e spegniamo la torcia proviamo anche sul parchetto che ho qua di fronte ecco qua illumina tutto illumina anche le case più in fondo là siamo a oltre i 215 metri non so bene quanto di preciso devo dire che illumina molto bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti